Ha senso acquistare una seconda casa al mare? Bentornato su Affari Miei. Oggi parliamo di un argomento che riguarda molte persone, soprattutto quelle che hanno una famiglia e probabilmente se ti stai facendo anche tu queste domande ti sarai trovato di fronte al dilemma che hanno tutti i papà e tutte le mamme con dei bambini, nella maggior parte dei casi dei bambini piccoli, che a un certo punto quando cominciano ad andare in vacanze in estate e magari preferiscono andare al mare, si fungono il problema di dire ma perché non l'acquisto la seconda casa al mare? Visto quello che mi costa per andarci ogni anno? È un problema che avrai sicuramente perché sia nella tua cerchia sociale se ne parla ma molto probabilmente anche quando vai in vacanza sarà pieno di agenzie immobiliari o di persone che a vario titolo ti hanno ventilato questa soluzione per i tuoi investimenti e per la gestione dei tuoi soldi e sulla quale probabilmente ti starai facendo delle domande. Anche se non ti sei mai posto questo problema guarda comunque questo video perché ti può essere utile per avere un punto di vista rispetto al mercato immobiliare che è un argomento di cui parliamo tanto su AffariMai e rispetto alla gestione delle tue finanze personali. Cominciamo subito dopo la sigla. Direi che dobbiamo fare subito un chiarimento molto importante perché le ragioni che ti possono portare ad acquistare un immobile in una qualità di mare sono essenzialmente due e sono molto distinte tra loro. La prima ragione può essere quella che io definisco come consumo mentre la seconda ragione è quella dell'investimento. Partiamo dal consumo che è la cosa più semplice. Se vuoi acquistare un appartamento in una qualità di mare perché ti piace il posto perché magari sei sentimentalmente legato al posto perché magari la tua famiglia è originaria di lì perché semplicemente ti piace l'appartamento che hai visto e stai pensando di acquistarlo secondo me non devi ragionare con la logica dell'investitore. Cioè qual è l'errore che facciamo molto spesso? È che cerchiamo una giustificazione di carattere finanziario rispetto ad acquisti che facciamo per ragioni di carattere emotivo. Se vuoi acquistare una casa in una qualità di mare perché ti piace, perché ti piace il posto, perché ci vuoi andare, perché ti trovi bene e te lo vuoi permettere, cumbrala. Non farti problemi e non farti domande diciamo di natura finanziaria. Non cercare una giustificazione finanziaria rispetto a un tuo desiderio che è una natura finanziaria, una natura affettiva, una natura di piacere o cose di questo tipo. Si vive una volta sola. Se ci possiamo permettere di fare una cosa la facciamo. Per farti un esempio, se ti piace andare al ristorante perché ti piace provare il ristorante degli chef più bravi, ti piace insomma provare i locali più carini con varie atmosfere, con vari temi, con varie tipologie di cibo eccetera, non è che ti fai la giustificazione ogni volta che vai al ristorante e dici cacchio questo mi ha fatto pagare la pasta 10-15 euro, con 10-15 euro mi facevo scaricare un camion di roba a casa di pasta. Non ti poni questa domanda di carattere puramente economico perché tu vai al ristorante perché ci vai per l'esperienza. Lo stesso concetto vale se vuoi effettuare questo acquisto con una spinta diciamo emotiva perché hai piacere nel farlo. Lo puoi fare, te lo puoi permettere, ti piace, cumbrala. Non cercare una giustificazione finanziaria perché o non la trovi o se la trovi è molto complessa, finirai per fare dei ragionamenti che magari mozzeranno in parte quella che era la tua idea originaria e non ti faranno vivere bene l'esperienza. Ti ripeto, si vive una volta sola e se una cosa ce la possiamo permettere, ci fa star bene, godiamocela senza stare lì a cercare una giustificazione razionale quando non serve. Fatta questa prima precisazione che ti ripeto è importante perché probabilmente ti aiuterà già a scremare molti pensieri che hai in testa se fai parte della prima categoria. Concentriamoci invece sull'acquisto che ha una natura di investimento. Cioè a te fondamentalmente non è che freghi più di tanto di acquistare quegli appartamenti in quel posto, non è un legame specifico, semplicemente in maniera anche intelligente secondo me ti fai calcoli di quello che ti costa ogni anno andare in vacanza. Sai benissimo che se hai dei bambini e devi andarci con i tuoi figli non costa affatto poco, specie se vivi in una grande città e ti devi spostare di tanti chilometri e quindi giustamente ti stai facendo la domanda e ti stai ponendo l'interrogativo di ma vuoi vedere che se acquisto l'appartamento è meglio perché così alla fine mi trovo qualcosa? Concentriamoci adesso su quest'altro aspetto e qui posso esserti più di aiuto perché appunto come sai con affari mesi mi segui da tempo, mi occupo proprio di finanza personale e investimenti. Il primo tema importante è che dobbiamo capire che le case al mare si inseriscono nel mercato immobiliare tradizionale, quindi tutto quello che vale per gli investimenti immobiliari normalmente vale anche per le case al mare. E questo che vuol dire? Vuol dire che le dinamiche che caratterizzano il mercato immobiliare locale del posto in cui vuoi acquistare l'immobile sono le stesse che caratterizzano l'Italia, se siamo in Italia o il paese insomma in cui vuoi farlo. Limitandoci all'Italia che è il nostro raggio di azione diciamo più frequente, in Italia i prezzi degli immobili sono in calo ormai da più di un decennio. Per tutta una serie di situazioni, in primis la resa economica del 2008 da cui l'Italia non ha mai recuperato al 100%, l'aspetto demografico che comunque vede la popolazione invecchiare e dinamiche che sono proprie dei paesi occidentali. L'Italia è un paese che ha una popolazione mediamente anziana, raggiunto il livello di sviluppo che doveva raggiungere. Non è che domani il prodotto interno lordo fa per 10 e automaticamente anche il valore degli immobili sale. Questo è il livello a cui possiamo stare, poi possiamo crescere un po' o possiamo decrescere un po' ma fondamentalmente l'Italia è arrivata sotto questo punto di vista. Quindi come si riflette questo sul mercato immobiliare? Si riflette che i prezzi o sono in calo o se va bene nelle località turistiche diciamo migliori si mantengono stabili. Io per esempio sono originario della costiera amalfitana, quindi per anni ho osservato il mercato nel mio territorio d'origine. Le case in costiera amalfitana costavano tantissimo tanti anni fa, costano tantissimo anche oggi, probabilmente costeranno tantissimo anche tra dieci anni perché lì c'è tutto un certo tipo di turismo, c'è tutto un certo tipo di economia e sarà così. Così è anche nelle città d'arte, così è anche in altre località che hanno un turismo anche internazionale, quindi di persone benestanti che vengono dall'estero, e così è anche in parte nelle località di montagna di cui ho parlato in un altro video che trovi qui sul canale. Ti dico questo appunto per capire prima di tutto la cornice in cui stiamo ragionando. Poi c'è il secondo light motive che caratterizza il mercato immobiliare nazionale e che vale anche per l'acquisto della casa al mare. Le case buone, da un punto di vista dell'investimento, non sono le case belle. Se tu stai guardando una bella casa con una bella vista mare, ristrutturata, carina eccetera, nove volte su dieci, ma secondo me anche dieci volte su dieci, non sarà un buon investimento. Ma non sarà un buon investimento perché una casa fatta e finita ovviamente ha un costo molto più alto di una casa magari che è da ristrutturare e da sistemare. E se vuoi fare l'affare, cioè se vuoi investire, tu investi per fare un affare, per avere un ritorno da quello che fai, devi probabilmente concentrare la tua attenzione su case che hanno dei problemi, su proprietari che magari vogliono vendere perché non ristrutturano da tanto tempo e quindi c'è necessario un minimo di impegno da parte tua. In più, se acquisti una casa, e questo vale per il mercato immobiliare, vale anche per quello delle case al mare, ti esponi ai rischi della volatilità del mercato nazionale e locale. Già prima dell'emergenza Covid-19, ricordo che avevo letto un articolo che riguardava la Puglia, in particolare il Salento, che avevo conosciuto un certo boom turistico, all'improvviso, per ragioni che non sto qui a dirti, questo boom si è in parte interrotto, ovviamente il valore degli immobili, così come il valore di tutte le attività che sono sorte, è sceso drasticamente. Quindi se effetti un investimento di lungo periodo, ti esponi alla volatilità dell'investimento, che non è come quando investi sui mercati finanziari, che prendi lo smartphone e vedi se hai fatto più o meno uno, ma è esattamente la stessa cosa, nel senso che i prezzi degli immobili fluttuano e se le cose vanno bene il tuo immobile si apprezza, se le cose vanno male il tuo immobile non si apprezza, si deprezza. Quindi è bene che abbia bene in mente questo concetto nel momento in cui fai un investimento di lungo periodo. È comunque un pensiero in più. Ora quindi il confronto che devi fare, a mio parere, è tra la liquidità del fatto di dire ogni anno spendo 3.000, 4.000, 5.000 euro, 10.000, a seconda di quanto è grande il tuo portafoglio, per andare in vacanza in un luogo X, rispetto alla staticità del min debito per tanti anni o comunque faccio un investimento che mi darà i suoi frutti dopo tanti anni, se acquisto senza mutuo, che caratterizza l'acquisto della casa al mare. Una delle risposte che probabilmente ti danno tutti e che ti avrà dato anche la gente immobiliare che magari ti ha avvicinato o qualche amico che ha fatto già questo passo e che ti ha influenzato è quello di dire sì ma a un certo punto ti trovi l'immobile, se ogni anno spendi solamente i soldi per andare in vacanza ti trovi meno soldi sul conto corrente, se invece ti acquisti l'appartamento dove vai in vacanza ti ritrovi l'immobile. È una risposta che può avere un senso, però devi considerare due cose. La prima cosa è quella che diciamo le vacanze obbligate e te lo dico perché sono nato e cresciuto in un luogo di vacanza dove c'erano famiglie che venivano in vacanza per 20 anni di fila perché i genitori, i nonni o chi per loro insomma aveva acquistato la casa al mare. Ora immagina la tua vita da qui ai prossimi 10, 15, 20 anni e chiediti se vuoi andare sempre in vacanza in quel posto. Se ci vuoi andare sempre probabilmente torniamo al principio che ti ho espresso in apertura del video, cioè torniamo all'acquisto che ha una natura di consumo, una natura emotiva, una natura personale. Se invece stiamo ragionando come investimenti, fare le vacanze sempre nello stesso posto, uno può essere noioso e due può essere alla lunga più costoso perché se vai in vacanza sempre nello stesso posto e a un certo punto ti scocci, hai 15, 20, un mese, hai 15 giorni all'anno, hai un mese all'anno di ferie in cui puoi staccare tutto e finalmente ti puoi riposare un po' e devi andare in un posto che magari ti ha scocciato. Quindi che fai? Dopo 5-6 anni dici sì ma prolunghiamo le vacanze e andiamo anche da un'altra parte. Nel lungo periodo questa cosa ovviamente ti costa di più. Se avevi cominciato questo ragionamento perché volevi risparmiare o comunque fare una cosa finanziariamente più sensata, magari tra dieci anni ti ritrovi a pagare le vacanze il doppio perché stai pagando ancora il mutuo magari della casa che hai acquistato o ne stai godendo di meno e stai spendendo comunque altri soldi per andare in vacanza da un'altra parte. In più 9 volte su 10 la giustificazione che ti dai rispetto a questo è dire ma io lo faccio per i figli e anche qui ti dico che quando ero bambino mi ricordavo che la gente veniva in vacanza in costiera malfitana c'erano dei ragazzini che avevano la mia età che ogni anno venivano col muso rispetto ai genitori, si scocciavano, non avevano tutta questa voglia ogni anno di venire in costiera malfitana perché magari gli piaceva la montagna, gli piaceva un altro posto e venivano lì perché i genitori li costringevano ogni anno a farsi le ferie insieme a loro. Immagino che molti di questi quando hanno raggiunto la maggiore età non solo hanno avuto il problema di avere la casa al mare dove magari non ci volevano andare perché hanno passato tutta l'adolescenza e tutta l'infanzia in vacanza sempre lì ma magari non gli interessava proprio questo appartamento, magari si sono trovati un appartamento che nel frattempo andrebbe ristrutturato, andrebbe aggiustato eccetera e quello che doveva essere un favore che gli facevano i genitori. In realtà magari è stato più un peso o più una rottura di scatole. Comunque considera l'aspetto delle vacanze obbligate perché se tuo figlio si stanca quando avrà 15-16 anni e non vuole più venire con te lo mandi in vacanza da un'altra parte e questo è un costo. Se volevi risparmiare o volevi fare l'acquisto intelligente devi considerare un costo in più al quale non saresti sottoposto se appunto avessi una tua diciamo liquidità. Quindi non vado in vacanza più lì, vado in vacanza da un'altra parte così i miei figli sono più contenti. Le vacanze, ti dico questo perché? Perché le vacanze sono un piacere. Stiamo parlando di investimenti, però stiamo parlando di una cosa che tu fai una volta l'anno, due volte l'anno per goderti la vita e non te la devi complicare. Ma su questo tema ci torniamo tra poco. L'altro aspetto che devi considerare appunto è quello dei rischi derivanti dal mercato. Cioè se tu stai acquistando la casa per andare in vacanza per rilassarti, ti stai andando a caricare le dinamiche di un posto che magari ti piace solo per andarci in vacanza, ma non ti interessa sapere se l'economia in quel luogo va bene, se il mercato immobiliare funziona bene oppure no. Acquistando chiaramente ti espone anche a questo e devi considerare ovviamente questo aspetto rispetto alla giustificazione appunto che ti danno gli agenti immobiliari o gli altri che hanno già fatto questa scelta del e ma poi tra vent'anni mi trovo l'immobile. E qui che arriviamo al mio parere conclusivo, che in realtà ti ho lasciato già trasparire ma che voglio appunto riepilogare alla fine di questo video. Il mio parere in realtà è molto netto, nel senso che se lo vuoi fare e la cosa ti fa stare bene, compra e non cercare giustificazioni di carattere finanziario. Stai facendo un acquisto importante, ti faccio i miei auguri, sono contento per te se questa cosa ti fa stare bene e viva la vita, godiamocela finché possiamo godercela. Se devo però ragionare da un punto di vista puramente finanziario, io sono per la liquidità, sono per le cose che si possono facilmente dismettere. Dal momento che le vacanze sono un momento di relax e sono un momento bello per la nostra vita, io so che le vacanze sono un servizio di piacere che posso pagare il prezzo che il mio portafoglio, la mia situazione economica, il mio reddito, il mio stato sociale mi permettono di sostenere quell'anno o che mi permetteranno di sostenere per tutta la vita. Andarmi onestamente a caricare un altro stress, quindi andare a acquistare un appartamento perché mi hanno detto che è più intelligente, che poi mi trovo alla casa, eccetera, e andare quindi a compromettere una fase bella della mia vita, una fase in cui mi godo il mio benessere, con un tema puramente finanziario, la trovo una cosa un po' forzata, se devo dirti la mia. In vacanze si va per piacere, quello che mi posso permettere, quello spendo. Fine. Non cerco una giustificazione finanziaria, non mi vado a complicare la vita. Diverso è il discorso se già vivi in prossimità di una zona turistica, se vuoi fare l'investitore immobiliare, se vuoi avviare un'attività di questo tipo, in quel caso lì non è che stai comprando la seconda casa per le vacanze perché vuoi fare l'acquisto intelligente, in quel caso lì stai facendo un investimento di natura ibrida, secondo me, tra il puro investimento finanziario, acquisto un immobile per percepire una rendita, e quello invece un po' più forzato, secondo me, di acquisto un immobile per andare a comprarmi un lavoro, per gestire questo appartamento in un luogo turistico. Una cosa diversa che, per certi versi, non ha a che fare tanto con l'oggetto del nostro video. Il nostro video si rivolge a quelle persone che vogliono comprare la seconda casa perché ritengono che sia un costo ogni anno pagare, diciamo, le vacanze. Io ti ho esposto tutte le criticità, di pro ne vedo francamente pochi, se devo dirti la verità, ma ovviamente se hai un parere diverso fammelo sapere nei commenti qui su YouTube perché sono curioso di leggere le tue opinioni, sono curioso di sapere se hai già acquistato un immobile in una località turistica facendo questi ragionamenti o facendone eventualmente altri che in questo momento mi sfuggono. Io con questo ti saluto, a presto, ciao!